5.580 ettari per consentire alle imprese di poter ottenere semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali. Speriamo che il mondo imprenditoriale risponda e risponda bene, avremmo voluto avere 50.000 ettari a disposizione per rispondere a tutte le tante domande che sono arrivate e purtroppo il limite lo ha stabilito il Governo nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.